Ma non è così straordinariamente magnificente questo aeroporto? Tutto magnificente. Che dici? Passare tipo dalle stalle alle stelle. Alle stelle, sì, sì. Condivido pienamente il tuo pensiero. Mento di poesia. Non andiamo più a Tokyo, stiamo qua. Mento di poesia. Stiamo qua? Non ci riesco col biglietto in mano, però. È così. Col cuore lo faccio. Sì, non deve essere un'espressione non verbale. È all'interno di te. È all'interno di tutti qua. Questi due uomini, signori. Guarda lì. Che uomini. Che coraggio. Altre nove ore di volo e saremmo arrivati. Esatto. E lì viene invece un bello arzillo, guardate lì. Non risente di questa... C'è la sigaretta time. Vieni, dai. Ma com'è la qualità di questi ristorantini? Guarda lì che sciccherina. Vai prima tu, dopo mi dici. Porta lo scontrino. Porta il bancomat anche. Ma quanto costa singolo il caffettino? No, ti pignorano la casa, direttamente. Ah, bene. Le comodità sono comodità. Ti dico che il caffè costa 8 euro, quindi... Meno costoso non c'è. Penso al resto quanto costa. Mezzo caffè non me lo danno. Ma fa vedere il dato? La tempia... Si ma... Ricolma di aloe. Si ma bisogna spiegare perché il principio essenziale, l'essenza, la forza dell'aloe... E l'aloe ti cura qualsiasi cosa. Di questo ragazzo che me l'ha somministrata. È un potere. Inquadriamo il ragazzo che ha questi prodotti magici. Grande, grande. Conosce i benefici della verdura. Il Giappone è uno dei più grandi paesi che utilizza l'aloe. Ecco. La mia madre mi fa sempre la soluzione all'aloe con l'alcol, l'ignelino. La supposta all'aloe. Andiamo a vedere la nuova versione della Twingo. Ce la fa da 4x4, scusa. È duty free però, cazzo. Non c'è, senza IVA. Beh, un bel veicolino Zama con le sue caratteristiche. È sembra una zonda, tipo. Il famoso fiume di Dubai. Abbiamo quello depresso che guarda fisso nel vuoto e invece quello bullo che cerca di azzannare i suoi simili con voracità. Un Apple iPhone 5C 32GB a 638$. C'è l'idea che si sollazza? Ah, no, niente. No, ma facciamo vedere l'idiozia anche. Praticamente hanno bloccato l'intero Starbucks perché sono caduti dei soldi all'interno di una grata e hanno bloccato, come puoi vedere, hanno bloccato allo Starbucks e tentano in tutti i modi. No, facciamo vedere questa mazzetta di grana. E che, per te, mancano altri soldi da qua. C'è una roba spropositata. Ti alleggeriamo una stessa. Infatti, grazie. Lo stai registrando che fa lo Starbucks? Buona la carta. Ecco, ecco. Cambio monetario. Ancora, ancora. Sarà che venezia se muoia e mi me vien boia e mi me mien boia. Ma no, cambierà. Sarà che venezia se muoia e mi me mien boia de fare l'amor. Ma il sesso venezia fa spussa da piso se robe da passi perché manca spassi fa andare a pissar. Fodo passi metto con un pezzo di pizza me cavo una spissa perché metto... la perversura di Sogiappo Tour mi sa che arriverà a livelli... Fodo! Un Giappo Lumine Tour? Giappo Lumine Tour? Giappo Lucciole Tour? Due settimane a Lumine. Si dorme in un cartone quando... Un cartone? Ma tu sei al 17? Io sono al 17.5. E' qua? Grazie Ario. Saluti. Ciao. A mai più arrivederci. Qual è la zona... La zona panne? Degustazione numero 2 Abbiamo un ottimo piattino nipponico con risaia, semi di sesmoneri, un pochino di zucchiname generico, un po' di sarumon teriyaki eventualmente, con una stessa di sedano e l'ottima salsa mirin da aggiungere a piacimento che è straordinaria. E poi un ottimo spaghettano, spaghettami sova, quelli veramente raglenziti, le sento assoluto e tenebrato, con delle zaffate generiche eventualmente di spezie aromatiche e arpeggianti. Si arrotola per bene. Mmm! Questo è una botta del sapore e anche una botta di freschezza. Praticamente ti vitalizza tutta la zona labiale. Signori, la colazione dei campioni con un ottimo croissant, quello adibito alla nitroievolezza e gradevolezza glucosiale, e un'ottima colazione di cina nipponica, quale la risaia, un pochino di verdurami misto e il pezzettino di salmone. Un pochino di limonaria, che serve a favorire la degradazione abituale delle bateni. E poi da quest'altra parte possiamo notare l'ottimo paninetto dolce, poi un zucchero a meno. un acino d'uva. Meglio di niente, ne? Si, si, meglio di niente, ne? Almeno mangiamo qualcosa prima di arrivare. La solità. Questa è l'ottima colazione dei campioni, questo garantisce la tua sopravvivenza per un tempo più prolungato. Certo, certo. Che prelibatezza, il sarumon, il sarumonteriato al mattino. il futuro è l'omelette. Certo. La assaporiamo perché non bisogna buttare la cibaria. Giusto. Bisogna pescare i bambini poveri. Quindi mangio. che pensi che il pensiero fai. Eccola lui. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono gli uomini spostati, distrutti da mille mila, miglia. Buonasera a tutti. Grazie.